Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video nel quale vi farò vedere in ogni mio singolo particolare la FNS9 della Cybergarm, la FNH, FNH, FNS9 della Cybergarm, mamma mia che nome completamente difficile. Prima di partire qualche premessina, scusate l'audio di qualità non proprio eccelsa, però sto registrando direttamente da telefono in presa diretta senza tali, senza particolare post-produzione, anche questa luce non è al massimo, è sufficiente farvi vedere in tutta la sua magnificenza questa replica, ma si può sempre fare di meglio ragazzi, lo sapete benissimo. Ultima premessina prima di partire, anzi ultime due, qua sotto in descrizione troverete tutti i video dedicati a questa e a tutte le mie altre repliche passate perché ho fatto un sacco di contenuti a riguardo, una recensione completa, uno smontaggio, una comparazione, un sacco di roba insomma. Infatti in questo video non parlerò di come performa in game, di come spara, di altre cose, ma ve la farò solo vedere, quindi non perdetevi gli altri video. Ultima premessina, mi piace, commentate e iscrivetevi. Lo so, sono noioso. Perfetto, iniziamo. Lentamente prendiamoci il nostro tempo e vediamo tutti i particolari di questa FNH-S9, a cominciare dal caricatore. Provo a fare movimenti lenti perché se sbatto le cose sulla scrivania vi assordo. sul fondo troviamo il logo FN, FN Herstal, è un fondello del caricatore che non presenta la valvola del gas perché la valvola del gas è qua. Bravissimi! Ci sono voluti vent'anni di evoluzione per renderci conto che magari la valvola del gas è meglio nasconderla e non metterla in vista. Questo aumenta il realismo dell'arma incredibilmente. Qua sul fondo abbiamo i finti contatori dei colpi e la finta saldatura centrale del caricatore. Questo è proprio attenzione al dettaglio da parte di VFC che ha fabbricato quest'arma. Brongiatura nera opaca, qua le alette che tengono fermo il caricatore quando è nell'arma. È un caricatore che somiglia estremamente tanto a quello della USP, soprattutto nell'imbuccatura. Diciamo un misto tra USP e Glock. Molto molto bello, molto piacevole. Beccuccio in plastica, gommino, valvola e altra valvola per caricare. Ottimo caricatore ragazzi, non mi stancherò mai di dirlo. Uno dei migliori che abbia sulle mie repliche. Ve lo faccio vedere inserito. Purtroppo sentite che lo scatto per incastrare non è proprio piacevole, ne parlo nella recensione. Abbiamo un sacco dappertutto di motivi antiscivolo qua quadrati. Qua sul retro queste gomme ragazzi, queste gomme molto rigide, non è plastica. Oppure plastica molto morbida, secondo me come volete intenderlo. Anche qua con roba antiscivolo, questa roba è interscambiabile. Io ho messo quello là, quello più grande perché mi piace di più. Si impugna un pochino peggio l'arma però più bella esteticamente secondo me. Logo FN anche qua. Qui abbiamo solite righine che abbiamo su più o meno tutte le armi. Sgancio caricatore ambidestro sia da una parte che dall'altra. Questa replica in generale ragazzi è praticamente tutta copia e incolla una parte all'altra. È completamente ambidestro, molto piacevole. Sgancio caricatore. Si preve per sganciare il caricatore, incredibile ma vero, ve lo devo dire io. Ok, anche questo con una specie di motivetto antiscivolo ed un accompagnamento per facilitarne la pressione. Salendo abbiamo una trigger guard, un paragrilletto con i motivetti qua davanti per facilitare alcune impugnature della pistola. Eccoci qua. Sul retro non abbiamo praticamente niente, abbiamo una vite per lo smontaggio e parliamo subito del grilletto di quest'arma. Un grilletto un po' in stile Glock, faccio l'armata. Un po' in stile Glock con la sicura appunto in stile Glock, ovvero se noi prendiamo il grilletto e basta, non succede niente, dobbiamo premere la sicura, esattamente in stile Glock. Il grilletto in plastica, questo a molti potrebbe non piacere, per adesso non ha ancora dato problemi. Sembra abbastanza resistente, però sì, in generale capisco che potrebbe rompersi negli anni. Solo l'attesa ci risponderà a questo dubbio. Il grilletto molto duro, molto largo, molto particolare anche da premere. Il grilletto ad azione singola, perché questa è un'arma ad azione singola. Poi salendo abbiamo il tasto di Hold Open, fatto estremamente bene. Non perdetevi ragazzi il video di comparazione tra quest'arma e la FNX45, perché è stato davvero divertente compararle. Sono praticamente la stessa arma in calibro diverso e una doppiazione e un'altra è a singola azione. Questo tasto si preme molto bene, molto meglio anche di quello della FNX. Piacevolissimo. Ovviamente ce l'abbiamo identico anche dall'altra parte. Poi salendo abbiamo praticamente l'unica differenza, la differenza più sostanziale tra un lato e l'altro. Questa è la leva per smontare l'arma in metallo, anche chiaramente lo sgancio caricatore e l'hold open sono tutti in metallo. Questa non la troviamo dall'altra parte, o meglio, non troviamo la leva dall'altra parte. Se vi interessa lo smontaggio, come al solito, descrizione. Andando avanti, anzi prima vi faccio vedere indietro questo piccolo beccuccio. Andando avanti abbiamo la solita slitta sotto canna con un numero di serie molto carino, uguale e identico a quello della FNX. Tra parentesi, tutta la parte sotto è in plastica, mentre la canna è in metallo. E ora parliamo, la canna, volevo dire il carrello, che mentre ragazzi parliamo finalmente del carrello, il bellissimo carrello di quest'arma. Carrello sagomato praticamente in modo identico a quello della FNX 45. Abbiamo 9mm FNS 9, logo FN, tutti questi incavi che facilitano l'armamento, sia nella parte frontale che posteriore. Dall'altra parte abbiamo Made in USA, FNH USA, oddio, Fredericksburg VA. Non mi credete che cosa vuol dire VA, perché non era più palla idea. Anche qua abbiamo gli incavi per facilitare l'armamento. E faccio vedere il retro dell'arma. Qua si vede se l'arma è armata o no. Vedete il pezzo grigio? Sparo, l'arma è disarmata. Molto molto bello, piacevole. Questo è un po' meno piacevole, perché se non sbaglio nell'arma vera questo qua è un pezzo mobile, qui invece è un pezzo fisso. Quindi si vede un pochino che è finta qua, volendo. Questo tra l'altro, questo scorcio qua, somiglia molto a quello della Glock. Infatti non perdetevi anche il video di comparazione tra questa pistola e la Glock, perché sono delle belle cose, diciamo. Vediamo subito le tacche di mira, molto standard, con i pallini bianchi, di una verniciatura abbastanza piacevole. Questa è quella posteriore, questa è quella anteriore. Non riesco ragazzi a mettervele a fuoco tutte e due, mi dispiace. Poi faccio vedere la canna, bellissima. La faccio vedere anche qua. In un metallo opaco, che sembra molto pesante, molto heavy duty. E qua abbiamo scritto 9 mm. Faccio vedere davanti, questo forse è la pecca della replica, che abbiamo una canna interna, quasi della stessa lunghezza della canna esterna, quindi tende a vedersi molto. Purtroppo, dato che è di ottone. Eh sì, più che difetto è così una caratteristica, ma vale la pena comunicarlo. In generale non mi piace molto il fronte di quest'arma, la parte finale, la volata, se così vogliamo chiamarla. Ok, faccio vedere che anche qua dentro abbiamo l'E-Sensed by FN Erstal. E qua abbiamo un estrattore che funziona veramente. Guardate qua, è un vero componente aggiunto come quello della FNX. Bellissimo. E quando l'arma è avanzata, l'estrattore sta fuori e il rosso sta ad indicare che c'è un colpo in canna. Molto, molto piacevole. Questi sono i dettagli che fanno la differenza. Questa bravissima VFC. Faccio anche vedere che il cilindro, la testa cilindro per meglio dire, è a forma di cartuccia. Guardate, c'è anche proprio lo scanso per l'estrattore. E qua si vede poco, ma ecco qua. Qua si vede alla perfezione, è esattamente a forma di cartuccia. Sto pensando di verniciare questo componente con della vernice per farlo diventare proprio del colore della cartuccia. Perché secondo me, wow, sarebbe davvero bellissimo. Magari lo faccio in futuro quando quest'arma non sarà più in garanzia, ma penso che lo farò. Per effetti, faccio vedere anche l'arma scarellata dietro che non la fa mai vedere nessuno. Purtroppo con questo loco c'è un po' una merda. Qua c'è questo componente qua che si muove. Ne parleremo nella recensione dello smontaggio. E qua c'è il cilindro che direttamente possiamo andarlo a toccare. Non è schermato, quindi però vedete che hanno dato una forma al cilindro molto carina. Per evitare, diciamo, danni di qualsiasi tipo e che qualcosa si possa intromettere. Qui abbiamo la canna dell'arma scarellata. Perfetto ragazzi, questo è tutto quello che avevo da dire in particolare sull'aspetto, su tutti i minimi particolari della FNS9. Vi invito nuovamente a cercare in descrizione tutti gli altri video dedicati. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!